Nella giornata di ieri il personale della squadra mobile della Questura di Cosenza ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offese ai luoghi da lei frequentati, emessa dal GIP, presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, a seguito di una richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore della Repubblica, dottor Mario Spagnuolo, nei confronti di un uomo, PS 56N di Cosenza, poiché è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia e di stalking. Le accurate indagini, esperite agli investigatori della terza sezione reati contro la persona in danno dei minori e dei reati sessuali della squadra mobile, hanno permesso di acclarare le ripetute ingiurie, minacce e violenze dell'uomo verso la propria compagna, violenze scaturite tutte per futili motivi. In un'occasione il re aveva persino afferrato la povera donna per il collo, buttandole in faccia del caffè bollente. L'uomo, incapace di accettare l'inevitabile fine della relazione, aveva iniziato anche a pedinarla fino alla propria abitazione e dal luogo di lavoro, minacciandola e tempestandola ossessivamente di telefonate ed sms. Oltre che dei reati di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori, l'uomo è stato indagato anche per il reato di tentata di violenza sessuale, poiché in una occasione dopo averla ingiuriata e per cosa aveva cercato di abusare sessualmente della stessa contro la sua volontà, non riuscendo nell'intento solo perché la donna di vincolata si era riuscita a chiedere aiuto sull'utenza di emergenza 113 alla Polizia di Stato.